1600 watt quindi un chilowatt e mezzo dal sole ovvero gratis e non è neanche il miglior risultato ottenuto finora perché quando era inverno e quindi la temperatura era più bassa i pannelli non si surriscaldavano siamo arrivati intorno ai 3 kilowatt quindi 3000 watt che diventano come sa chi ha familiarità con queste definizioni diventano 3 kilowatt ora quindi sono un euro e 20 circa risparmiati ogni ora tutti i giorni in cui c'è il sole c'è un problema però problema facciamolo diventare una soluzione cioè le batterie di ermanno le batterie di litio store che ci hanno permesso di viaggiare off grid completamente gas free in islanda e nord europa sono dentro ermanno inutilizzate di fatto e sono 10 kilowatt ora cioè due batterie da 12 volt l'una a 400 ampere ora di capacità che succede succede questo tenerle dentro è uno spreco e un peccato al tempo stesso il nostro futuro bnb ormai siamo vicini a registrarlo come bnb quindi questa sorta di dependence di 30 metri quadri che già in parte stiamo utilizzando soprattutto per i corsi per ospitare le persone che vengono ai nostri corsi di bioedilizia off grid camperizzazione potrebbe essere slacciata perché dico potrebbe perché ha un pod un contatore indipendente rispetto alla casa principale che vedete alle mie spalle quindi andiamo al manufatto enel che ve lo mostro e poi vi spiego che cosa mi frulla in testa ecco qui il manufatto enel ospita a due quadri casa grande e casa piccola con un quadretto esterno che ho fatto aggiungere io per chi viene con il proprio mezzo che è questo qua no quindi ci sono due linee per alimentare camper van di solito si mettono in quello spiazzo di ghiaia ma ne dovremmo creare altri nel tempo come vedete quindi già abbiamo individuato il cavo in entrata che è questo questo cavo con scritto piccola parte dal quadro appunto e corre partendo da qui sottoterra fino ad arrivare in garage le questioni quali quali sono e in questo video ve ne parlo anche per cercare un confronto con chi è più esperto di me perché io ne so abbastanza ma il dubbio grosso che mi resta è quello legale adesso vi spiego perché questione principale come sfruttare le batterie ora sentiamo dentro il manno vi mostro il vano dove sono piazzate le batterie e vi spiego come è fatto adesso e come voglio trasferirlo e riconfigurarlo in garage ecco qui le due batterie a litio in verticale essendo appunto una tecnologia di tipo l'ifepo 4 possiamo anche stivarle in questo modo qui ci sono i vari collegamenti cablaggi tutti i dispositivi di ricarica e i maniglioni anderson per sgancio rapido in caso di emergenza ho scelto di metterli per una questione di sicurezza in più queste sono collegate in parallelo quindi rimaniamo a 12 volt ma raddoppiamo la capacità e andiamo appunto ai 10 kilowattora che vi dicevo prima dato che non le abbiamo più utilizzate e adesso inizia a esserci sole quasi tutti i giorni la loro carica è al 100% infatti se vi mostro il monitor della victron vedrete che il valore è altissimo eccolo qua abbiamo 14,9 che appunto il 100% di carica e se non è il 100 è probabilmente il 99 o giù di lì che si potrebbe fare quindi che cosa vorrei fare io vorrei fare questo vorrei prendere quelle due batterie toglierle da lì e posizionarle siamo in garage di fianco all'impianto di filtrazione di acqua piovana dove adesso c'è la batteria ac 200 max bluetti che ha però due soli kilowattora di capacità pur essendo un 48 volt di tensione almeno vado a memoria dovrebbe essere 48 volt di default io potrei fare questo quindi potrei collegare in serie le due batterie di litio store che sono 12 volt luna portare quindi la tensione a un livello intanto superiore non paragonabile a 48 volt ma comunque superiore quindi avremmo un impianto da 24 volt con il suo inverter da 24 volt adesso vi mostro anche quale sarebbe questo della nds quindi l'SP3000 vedete l'input 24 volt output 220 240 50 hertz insomma i valori che servono a noi qui in italia a questo punto collegato l'inverter basterebbe collegare i pannelli fotovoltaici dal tetto già ce ne sono tre che sono collegati in serie tra loro e che alimentano la c200 max la c200 max la sposterei a quel punto dentro il manno oppure in casetta degli attrezzi di là per alimentare alla bisogna frigorifero piano cottura e quant'altro il mio dubbio qual è ne ho diversi allora da una parte c'è la questione della bifasica però la bifasica in questo caso è relativa perché perché anche se esce una tensione di 120 e 120 essendo un inverter e non essendo predisposto per riprodurre no la corrente domestica potrei avere dei problemi ma anche no perché in realtà l'unico dispositivo che non so se potrebbe soffrire per via della bifasica è il boiler elettrico secondo me non gli fa né caldo né freddo ma ho visto che il nostro piano induzione ad esempio di ultima generazione acquistato poco fa da errore se è collegato solo alla bluetti che non va a prendersi la 220 dalla presa di casa e quindi da enel lui in realtà poi è collegato anche in maniera bastarda bastarda intendo per me che dovrò andare a smontare tutto perché il suo cavo della corrente è già dentro una canalina che va a finire diretta dentro al quadro è questo che adesso vi farò vedere però diciamo che questo si può anche escludere quello che interesserebbe a me sarebbe alimentare tutto l'impianto di filtrazione di acqua piovana cosa che riesce già a fare la c200 max dalla sera che è al 100 per cento alla mattina che scende intorno al 20 25 per cento ma soprattutto potrei alimentare tutto il garage quindi le varie attrezzature da taglio sega circolare segreto alternativo e compagnia cantante il frigorifero che è questo che anche lui è alimentato dalla c200 max dove tengo il pane che sta lievitando eccoli qua la lavatrice che è questa che la c200 max non riesce ad alimentare perché va oltre i 2000 watt di potenza e il congelatore laggiù in fondo che vedete in un angolo e che adesso è spento più tutto l'appartamento che abbiamo sopra che non ha molto cioè ha un frigorifero ha il piano induzione che altro le luci e così via però sarebbe un bell'esperimento per me cioè sarebbe una prova per il futuro di stacco totale da enel e da gse e quant'altro non ho grandi dubbi diciamo su come intervenire cioè prima cosa si si fa si sgancia si si stacca la corrente dal manufatto enel poi si va a recuperare il cavo in ingresso che è qui eccolo basta individuare insomma le linee che entrano dentro c'era anche un topolino che si è fatto il nido gentilmente e che ho sgamato poi queste linee diciamo diventano una presa tipo sciuco no che va appunto al nostro inverter e fin qua più o meno ci siamo anche perché poi avrai già tutto il cablaggio predisposto sul quadro elettrico ovvero tutto sarebbe già messo in sicurezza compresa la messa a terra che poi andrei a replicare spostando però il palino di rame che è un po buttato lì adesso quindi mi sono comprato la scatola questa è fatta apposta proprio per le paline quindi vedete voi la piantate qui dentro poi ci collegate la vostra messa a terra entrando lateralmente da questo da questo ingresso adesso in ombra non si vede molto e questa la interrate o comunque la mettete a livello del terreno questa cosa al momento non è stata fatta quindi l'elettricista ha piantato il cavo che è questo qua giallo e verde e la palina rimane lì e qui se volete apro una piccola parentesi su una questione che ho letto in qualche forum e che torna spesso cioè ma perché quando sono in area sosta in campeggio non replico dal mio impianto la messa a terra e quindi pianto una bella palina la risposta è molto semplice perché se lo fate dovreste avere 20 paline di rame con voi perché come voi la mettete bene a terra piantata bene a parte che rischiate di prendere qualche tubo qualche cavo sottoterra perché non sapete come girano sottoterra ma il rischio è quello di non riuscire più a tirarlo fuori quindi sconsigliato completamente come sistema di messa a terra non va bene ci sono delle soluzioni ma se volete ne possiamo parlare nei commenti o scrivetemi in privato o venite a uno dei corsi di camperizzazione il prossimo che c'è tra parentesi è il 31 maggio 1 e 2 giugno e ci sono tre iscritti sette posti liberi quindi insomma vi lascio il link sempre in descrizione ma torniamo alla questione di essere off grid con quello che sarà il futuro bnb ovvero detto questo presa la linea è questa qui vedete che sono pronto diciamo al taglio una volta che si toglie il passaggio di corrente si taglia si fa entrare lì dentro e si manda in garage poi si sistemano tutti questi tubi scoperti questa è la nostra mandata dell'energia elettrica fatto questo arriva appunto il bello o il brutto a seconda dei punti di vista e cioè prima questione questo sistema fatto così poi si risolve come si risolve richiedendo la recessione del contratto dal nostro fornitore che nella fattispecie è e nostra è una società che utilizza il 100 per cento di energia da fonti rinnovabili abbastanza nota ormai comincia ad avere bei numeri come portfolio clienti e progetti realizzati perché poi costruiscono anche turbine eoliche che poi ti permettono di risparmiare sulla bolletta se acquisti delle quote in fase di costruzione insomma andatevi a vedere casomai il sito quindi recedo recederò dal contratto mi disattivano la corrente io non ho più niente in ingresso nel contatore e qui faccio appello a chi ne sa più di me non dovrei neanche in teoria aggiungere un ats in teoria perché perché se dovessi avere bisogno di corrente ho un paracadute cioè dalla presa esterna qui dentro tiro un cavo e vado ad alimentare direttamente con un caricabatterie della victron ad esempio quindi charger della victron che già ho da 10 ampere vado ad alimentare direttamente con le batterie anche perché l'uso che si fa di questa abitazione è un utilizzo saltuario è come b&b appunto quindi non non credo ci sarà mai penuria di corrente forse proprio in inverno se uno sta qui una settimana per esempio quindi dovrei riuscire a farlo in questo modo avrei un impianto 100% a isola che rimane con la problematica della bifasica ma che non mi interessa perché non ho diciamo dispositivi che in bifasica potrebbero andare in crisi vengo dentro casa che si sta più al fresco allora concludo dicendo che quello che mi perplime e qui vi chiedo delucidazioni a parte il discorso ats ma ripeto secondo me non sussiste perché di fatto interromperei proprio il passaggio di corrente lo scambio eventuale no di corrente che ci può essere tra manufatto e abitazione quindi questa la risolverei così quello che mi perplime di più forse è tanto un discorso di potenza quindi capire se 3000 watt in 24 volt a 24 volt sono sono sufficienti ma vedendo che la bluetti già che è 2000 watt riesce a stare dietro a tutto il garage secondo me aggiungere il congelatore che è poca roba e il boiler elettrico non sposta di tanto l'asticella chiaro che uno che accende sopra il piano induzione che solo lui potrebbe arrivare a 2500 watt lì c'è da capire se c'è da capire come come si può gestire quella cosa bisognerebbe spiegargliela e vabbè cercherò di fare due linee una linea rimane dentro il garage e quindi viaggia indipendente dall'altra l'altra va su in casa ed è quella che è quella che dovrebbe portare almeno almeno 2000 2500 watt vabbè comunque la cosa che rimane da chiarire nella mia testa sarà anche il discorso incentivi perché perché se un domani dovessimo diventare agriturismo che è l'obiettivo ultimo in realtà c'è un passaggio intermedio che non è tanto il bnb ma è l'ospitalità rurale familiare si chiama che si può fare in zone montane questa è considerata zona montana anche se siamo a 200 metri di quota e che ci permetterebbe sostanzialmente di avere meno vincoli rispetto al bnb però il non plus ultra sarebbe l'agriturismo perché con l'agriturismo possiamo effettivamente avere gente che viene qui e rimane a dormire in tenda in camper e usufruisce di tutta la parte esterna anche del terreno che abbiamo detto ciò quindi dico ma se escono dei bandi e questi bandi finanziano finanzierebbero impianti fotovoltaici e batterie di accumulo per agriturismi che succede nel momento in cui qualcuno viene a fare un sopralluogo anche tecnico e vede che non siamo allacciati cioè si può comunque vincere il bando al limite si riattiva la fornitura mi viene da dire ma va beh insomma questo magari si può affrontare quando è ora di affrontarlo il risparmio quale sarebbe di tutta questa operazione beh non sarebbe poco perché ogni mese noi spendiamo 30 35 euro di spese fisse che sono le spese che non potete eliminare quindi 35 per al mese per 12 fa quei 350 400 415 420 euro che risparmiati tutti gli anni in dieci anni fanno più di 4000 euro insomma tenerseli in tasca non mi sembra una brutta idea il più è appunto forse non lo so trovare il coraggio di farlo e sperare che chi utilizza il bnb abbia un po di riguardo e un po di conoscenza dell'utilizzo di un un impianto off grid dove quindi sai che non puoi consumare più di 3000 watt qui forse potrebbe essere il caso di mettere un monitor un contatore che ti permette di vedere qual è il tuo consumo di potenza elettrica istantaneo in quel momento insomma me la vedrò io che dire questo è un progetto che realizzerò nel corso dell'estate sicuramente quando ho la garanzia del sole in abbondanza vi annuncio ne approfitto in chiusura che road to iceland il nostro docufilm è indirittura d'arrivo ci abbiamo messo tanto ma penso spero insomma che ne valga la pena credo che sarà una bella emozione anche per chi lo guarderà lo potete ordinare dal sito ufficiale che vi lascio in descrizione c'è in formato dvd o in chiavetta usb sono ormai tutti pronti con la grafica eccetera e quindi le spedizioni inizieranno nella seconda metà di maggio cioè tra una decina di giorni direi indicativamente vi ringrazio per aver aspettato con con pazienza so che è stata lunga e nulla e probabilmente il prossimo venerdì parleremo proprio di questo docufilm vado a fare la lavastoviglie che sarà alimentata dal totem delle bluetti e quindi energia pulita energia autoprodotta ed energia soprattutto gratuita se avete domande vi rispondo nei commenti e soprattutto se avete consigli e suggerimenti su questo primo grande passo verso l'off grid totale scriveteli pure insomma perché lo scambio è forse la cosa più bella e più importante di questo canale youtube